Al volto ma in questo caso sono molto simili Barbala alla Ardel Barbala a Ardel, bravo Severini, tanto un gancio morbido che entra nel secchio di Legnano riduce da illo tempo e il divario a meno uno Arizer può chiudersi eventualmente a Riccio si è arrestato dai 5 metri dei metri precedenti adesso scarica per Luca Severini un tiro da tre punti istantaneo il time out chiamato da Mattia Ferrari, Casale è uscito con una bomba, è il bonus anche Legnano se non si riesce a giocare in gioco in movimento si prova a prendere un ferro, tiro dalla lunga di capitano Martinoni, primo fello, niente da fare strappa la palla a Severini canestro di pallo, con la piovra Luca Severini e forse game set e match anche se ancora lunga, 29-8 dalla fine, ma questa è 30 e voglia di portare a casa i due punti un canestro pazzesco di Severini che ha strappato il pallone praticamente dalle mani di William Bosley grazie a tutti ha Grazie per la visione!